eccoci qua ciao a tutti buongiorno oggi è sabato e ho proprio un attimino di tempo e vorrei registrare la seconda parte del mega haul del dem che ho fatto 15 giorni fa sarà un po più scarna perché la parte più grossa dei detergenti shampoo e queste cose ve le ho fatte vedere la puntata precedente e quindi nulla le cose che vi faccio vedere adesso sono viso piedi ma non è proprio tantissima roba ho comprato tantissime maschere le maschere ci piacciono tantissimo io e lucia ne facciamo spesso durante la settimana due o tre settimana quindi queste si riducono velocemente un po' me le ha già rubate lei un po' le ha già utilizzate i prodotti che ho provato sono tutti veramente al momento molto molto buoni detergenti shampoo ma poi ve ne parlerò pian piano nel corso delle prossime puntate passiamo un momento così spensierato finché finché si riesce una mezz'oretta magari neanche insieme per così distogliere il pensiero da tutto quello che ci circonda e che conosciamo benissimo e che purtroppo non è una bella situazione anzi è drammatica ma in questi pochi minuti che passeremo insieme cerchiamo così di pensare a qualcos'altro che ci fa star bene e che ci solleva un attimino lo spirito e la testa io vorrevo ringraziarvi tutti per i tantissimi commenti nel video precedente e per le tante iscrizioni nuove che avete che avete fatto per i tanti per le tante amiche che si sono unite a questo a questo canale disordinato e nulla quindi iniziamo subito questa carrellata di prodotti nuovi per me volevo farveli vedere perché a parte due cremine che ho provato perché volevo proprio provarle non ho utilizzato niente adesso voglio veramente veramente utilizzarle allora parto con una crema per i piedi che è l'unica cosa che ho comprato per i piedi ed è questa l'ho già provata l'ho trovata veramente buonissima e adesso vi dico non ce neanche le traduzioni o le comunque è una è una crema piedi all'urea per il resto non non conosco nient'altro volevo anche dirvi una scoperta prima lo sapete che sono disordinata vado di qua di là ho trovato due applicazioni che mi ha segnalato la mia amica mommi che una si chiama probabilmente voi le conoscete già io non le conoscevo inchi beauty dove inquadrando il codice a barre si vede l'inci del prodotto e gli ingredienti se è buono se non è buono se è vegan se invece contiene delle schifezze e l'altra che si chiama yuka e anche questa penso che la conosciate io non la conoscevo dove fanno vedere un po le recensioni dei dei prodotti sempre inquadrando il codice a barre le sto utilizzando sono carine sono così uno strumento in più per vedere se quello che abbiamo comprato è valido anche su sui test che fanno le persone che poi si scrivono e mettono le loro recensioni quindi vabbè poi vi lascio nell'info box tutte le info per queste due app gratuite da scaricare se le volete scaricare ma ritorniamo a noi allora crema a piedi che ho provato ed è veramente veramente buonissima lascia i piedi morbidi quindi il profumo è molto delicato quasi di fiori ve la faccio vedere sulla mano secondo me poi va sicuramente bene anche per le mani si spalma velocemente adesso io ne ho messa una quantità esorbitante aspetta ci mettiamocela sulle mani bene la spalmiamo ok allora ne ho messa tanta però vedete molto morbida molto idratante i piedini rimangono morbidi profumati io la metto alla sera poi in strato abbondante metto i calzini io premetto non ho problemi di pelle spessita o altre cose sui piedi però ogni tanto una coccolina sui piedi mi piace farla non c'ho mai più di tanto fatto caso ai miei piedini uso ogni tanto la crema della Just la crema piedi che per me è la crema universale che va bene per tutto e allora ho voluto provare questa poi anche qui per gli occhi ho preso solo questo sto cercando sto finendo un contorno occhi che non mi sta piacendo ma va bene l'ho comprato e adesso lo sto utilizzando sono arrivata quasi alla fine non ho comprato o meglio in base alle varie recensioni delle amiche che fanno i video su youtube ho visto che c'è un contorno occhi molto valido della Kiehl's se non sbaglio lo vorrei comprare per il momento finisco quello e quello che c'è in giro e ho comprato soltanto questi pads vabbè non sapete ragazzi che con l'inglese e con qualsiasi altra lingua che non sia il dialetto e l'italiano non ci so fare e questi niente volevo provarli questi sono una maschera si maschera ma sono dei patch maschera rassodante per gli occhi con estratto di vaniglia e acido ialuronico poi vi saprò dire poi per le labbra io faccio un uso smodato di balsami labbra e ho voluto provare questo di al verde all'avocado e balsamo labbra con olio di avocado e burro di karité di al verde poi di balea ho voluto prendere questo perché vabbè c'era il cocco e non potevo non prenderlo non vedo assolutamente nulla e non è neanche scritto in italiano presumo che sia un balsamo al cocco in limited edition e poi ho preso questo che anche questa era una limited edition ma era in offerta l'ho vista in qualche video penso l'estate scorsa quindi saranno gli ultimi pezzi ed è un ed è non lo so un burro balsamo labbra tropical vibes tropical vibes ci sta e anche questo poi lo vorrò provare ha un formato abbastanza cicciottino un po' più grande degli altri bene mi prude il naso poi per le mani invece ho comprato questa crema all'urea crema a mani idratante con 5% di urea anche questa l'ho provata è veramente molto molto buona adesso ho le mani che scivola non riesco ad aprirla comunque anche questa vi saprò dire poi ho comprato 4 di queste ma se le ha già rubate alla Lucia 2 al profumo di biscotto al cioccolato e queste le ha prese lei e non le ho neanche provate e 2 di queste e è buonissima mi ricorda tantissimo anche qua ragazzi ho le mani tutte cicciotte va bene i bambini ce la possiamo fare vediamo se riesco ad aprirla ok qua si è anche spostata tutta da una parte è molto molto cremosa mi ricorda davvero la crema Nivea è morbidissima sulle mani questa la tengo in borsetta e il profumo è delizioso è veramente veramente buonissima e questa anche questa era una limited edition che però secondo me è diventata permanente perché non c'è più limited edition valea crema nutriente ideali per viso labbra e corpo io la uso per le mani perché è buonissima anche perché per il corpo questa è una volta sola se ne va poi ho preso i famosi guantini che ho visto pubblicizzati in tantissimi tantissimi video guanti maschera per mani con urea ed acido ialuronico un paio 24 ore di idratazione quindi presumo che siano da tenere la notte penso o anche magari in casa se si stanno facendo delle cose tranquille insomma non le pulizie in un momento di riposo si possono provare queste non le ho ancora provate dopo 15-20 minuti togliere i guanti maschera e massaggiare delicatamente i residui oppure rimuoverli con una salviettina stroccante proveremo anche queste di queste ne ho presi due confezioni e poi vedremo per i capelli le altre me le ha rubate tutte la Lucia sono riuscita a salvare questa maschera vitaminica al mango con olio di argan cheratina è indicata per tutti i tipi di capelle che hanno bisogno di morbidezza arricchita con vitamina E il giusto nutrimento madonna non ci vedo più ragazzi il giusto nutrimento alla fibra capillare risultato i tuoi capelli rimarranno morbidi levigati e luminosi vedremo poi per il corpo non mi pare di averveli fatti vedere la volta scorsa ma se li ho fatti vedere mi scusate per il corpo per il viso anche questo l'ho provato è un peeling viso in crema con olio di noccioli di albicocca adatto per tutti i tipi di pelle il peeling rinfresca e rende più liscia la pelle del viso Mitzga è scritto piccolissimo dovremmo dire al signor Dem che ci sono anche delle signore di 52 anni che non vedono un cavolo con le etichette ho visto sui carrelli che però c'era la lente per le ciecate come me questo l'ho provato peeling molto efficace anzi da fare con cautela nel senso che leviga veramente molto bene la pelle comunque dopo che l'ho usato è rimasta morbida e poi sono andata avanti con la mia skin care normale e poi ho preso ecco questo scritto un po' più grande balea detergente peeling e maschera 3 in 1 per pelli impure formula con acido salicilico argilla rosa e zinco questa la userò anch'io ma secondo me la usa ed è forse più adatta alla pelle della Lucia che è una ragazza di 18 anni con la pelle un po' impura punti neri brufoletti vari e vedremo poi sempre per il viso ho preso questo che però non l'ho ancora utilizzato è un tonico al verde tonico per il viso con estratto di rosa selvatica ho sentito delle recensioni non proprio positivissime vi dirò se poi mi piace o non mi piace sempre per il viso visto che li ho sentiti osannati tantissimo e io non ne ho mai fatto uso il siero con la vitamina C e questo mi intriga davvero da morire vediamo se da qualche parte c'è scritto in italiano sì però ci vorrebbe la lente siero antiossidante alla vitamina C ideale per tutti i tipi di pelle per una pelle luminosa e omogenea effetto idratante applicare mattino e sera alcune gocce sul viso collo e decoltè detersi e massaggiare delicatamente questo vi dirò com'è perché io questi sieri con gli acidi non li ho proprio mai cioè con le vitamine e con gli acidi non li ho proprio mai utilizzati vedremo mi ispira un sacco e poi sempre per il viso ho preso un un altro siero gel peeling viso con niacinamide e AHA quindi sono gli acidi senza profumo adatto a tutti i tipi di pelle rende la pelle liscia luminosa e purificata e questo penso che per la mia pelle vada proprio bene li proverò e poi vi dirò poi sempre per il viso ah ecco si con tornocchi ho preso anche un'altra cosa che non mi sono ricordata allora per il viso ho preso anche questi queste ampolle concentrate io non le ho mai utilizzate quindi vedremo un po' come sarà l'effetto allora balea concentrato ad effetto lifting immediato 7 capsule riduce le rughe aumentare l'elasticità della pelle ma proviamole e vediamo cosa succede anche questa balea Q10 concentrato antirughe 7 capsule aumenta l'elasticità della pelle attenua le rughe in profondità e rassoda la pelle con vitamina E proteggere dal sole vediamo anche qua devo cominciare infatti ero curiosa di provarle ma non le ho non le ho ancora aperte poi di questi invece che ne ho sentito parlare veramente molto bene sono del concentrato per contorno occhi ad effetto levigante con estratto di tè verde e vitamina E ne ho presi due ne ho sentito parlare molto bene dalla mia amica Simona sempre di pensieri e pasticci e vorrei provare perché appunto mi sono accorta che il mio contorno occhi anche se non ha delle rughe molto forti comunque è molto disidratato e poi io ho un problema alle palpebre che sono veramente sensibili e irritabili ma vi farò vedere poi nei prossimi video i prodotti che sto usando da sempre perché altrimenti non riesco assolutamente a truccarmi ma non posso neanche mettere un po' di c'è niente mi bruciano tantissimo mi si arrossano gli occhi e mi si formano proprio delle piaghette sulla palpebra e lì devo usare un trattamento specifico che mi aveva detto la dermatologa e quindi vediamo un po' cosa succede con queste è vero che queste non vanno sulla palpebra però poi cominciamo con le creme e poi abbiamo finito perché abbiamo veramente soltanto creme creme e scusa creme e maschere cioè rifaccio non cancello ma rifaccio cominciamo con le maschere viso adesso finiremo con le maschere viso perché sono tantissime questa è una maschera purificante con i fanghi del mar morto per pelli impure effetto immediato la formula arricchita con minerali zinco ed estratto di alghe purifica la pelle in profondità togliendo il sebo in eccesso i granuli di nocciole di albicocca e di bambù detergono delicatamente la pelle questa poi ho preso sempre così sono due maschere in due confezioni ma sono unite maschere idratante e questa so già che mi piacerà perché sul mio viso le maschere idratanti rimpolpanti sono quelle che hanno più hanno più effetto la mia pelle nonostante sia mista non più tanto grassa ma mista ha proprio necessità di di essere idratata e quindi penso che sicuramente questa farà un effetto pazzesco allora maschera idratante viso con aloe vera e acqua termale per tutti i tipi di pelle effetto rinfrescante immediato e anche questa vedremo poi l'ultima di questa tipologia di maschere questa è maschera viso idratante 24 ore con acido di aluronico e su di me è la morte sua e complesso di minerali per tutti i tipi di pelle effetto rimpolpante e lisciante fantastica poi adesso iniziamo con le maschere in tessuto e qua ne abbiamo di tutti i tipi non potevo non provare questa con la vitamina C maschera in viso energizzante in tessuto con vitamina C per tutti i tipi di pelle questa l'ho presa perché secondo voi potevo lasciarmi scappare la matrigosca le altre due copreso di due tipologie diverse ma sempre con lo stesso pack le ha rubate la Lucia questa vediamo se riesco a leggere da qualche parte bubble rose mask maschera alla rosa e al collagene togliere la maschera dall'invallo spiegare ah ma questa è quella che fa le bollicine ah no questa la devo provare questa è la maschera che fa le bollicine una volta che è applicata sul viso questa qua poi vi dirò come molto carina poi ne ho presa anche una di al verde anche se mi è parso di capire dalle varie recensioni che tra al verde e balea comunque vince balea allora maschera in tessuto alle alghe marine per pelli normali e miste quindi direi che è la mia pelle mista e vedremo poi ah questa mi piace di sicuro idroboster ne ho provata una della garnier ragazzi che meraviglia poi ve la faccio vedere nei prodotti finiti maschera viso idratante in tessuto con acido ialuronico e dallantoina per tutti i tipi di pelle rimpolpa e liscia la pelle del viso donando un'idratazione intensiva quindi questa secondo me è fantastica poi ne abbiamo anche una detox questa è la nuova gamma di maschere in tessuto e formulate con il 97% di ingredienti di origine naturale quindi questa è anche con un inci diciamo molto molto buono senza ingredienti di origine animale adatta anche alle pelli più sensibili carbone vegetale aloe vera scorza di limone acido ialuronico e anche qua andiamo a nozze beh anche questa l'ho presa per il pack ma secondo voi e anche questa ne ho prese altre due la lucia me le ha già rubate maschera viso idratante in tessuto con curcuma ed estratto di caffè quindi dovrebbe anche essere un po' energizzante per tutti i tipi di pelle al profumo di cacao macadamia e cocco questa è una coccola assicurata da farsi in un momento di relax poi uh questa è con il cocco però vediamo se c'è scritto eh no non vedo niente no scusate proprio non vedo assolutamente nulla e poi è made in corea quindi non adesso mi viene il dubbio no dovrebbe essere proprio che lo comprate perché le ho tenute tutte insieme mi pare di sì non sono sicura se è del DM ma dovrei averle messe tutte insieme quindi dovrebbe essere così se non è del DM cancellatela poi ho preso questa vediamo in italiano ok maschera ah no maschera mani questa è un'altra maschera mani maschera mani idratante e protettiva in tessuto trattamento express lua idratante e protettivo facile e divertente quindi sono dei guantini la sto guardando con voi per la prima volta perché quando ero là ho tirato su di tutto e di più dagli scaffali cioè sembravo quasi in trans dove cioè veramente ok penso che mi capiate perché qualcuno ha detto che anche lui quando è andato per la prima volta al DM ha fatto strage ecco io ho fatto veramente strage al magico muro di carité vediamo ah sì sì sono proprio dei guantini sì sono dei guantini quindi anche questo poi vi saprò dire come sono poi queste due che mi piacevano tantissimo anche questa fa le bollicine sulla bocca sulla bocca sulla faccia mamma mia che video del cavolo anche questa fa le bollicine e anche questa sono curiosa di vedere l'effetto che fa perché non le ho mai utilizzate vediamo c'è in tutte le lingue ok bubble mask viso ossigeno e carbone purificante idratante interessante questa sempre della stessa linea ma diversa l'azione questa dove hanno messo l'italiano ok maschera viso viso e collo al collagene idratante effetto lifting rughe levigate molto bello questo pack veramente bello e le ultime due sono stata velocissima oggi sarà contenta la mia amica Franci che non ha potuto fare tantissimi mestieri con questo video relax it's zen time e questa dice maschera rilassante maschera rilassante non capisco allora vediamo non dice gli ingredienti o meglio io non li capisco maschera rilassante cosa c'è dentro cosa ci dice intensa idratazione schiarisce la pelle rivitalizza purifica e pulisce i pori se ho capito bene e l'ultima non saprei dirlo in italiano clarifying mask vuol dire maschera schiarente potrebbe essere sì sì ragazze maschera schiarente e anche qua vi saprò dire bene ragazzi e ragazze ho finito velocissima la Eli oggi vado a preparare il pranzo vi auguro di poter trovare dei momenti così per rilassarvi per allontanare magari un po' il pensiero negativo anche solo per pochi minuti perché purtroppo sappiamo benissimo anche dalle notizie che abbiamo proprio le ultime notizie che la situazione è veramente brutta è veramente drammatica cerchiamo di fare quello che ci piace che ci fa stare un po' bene anche per poco godiamoci la nostra famiglia i nostri affetti i nostri amici questo non vuol dire che non ci ricordiamo delle persone che stanno peggio di noi ma vuol dire che nonostante tutto comunque amiamo la vita amiamo le cose belle amiamo star bene amiamo volerci bene e volerci bene è anche ritrovare comunque i 10 minuti il quarto d'ora al giorno per guardarsi un video per farsi una maschera per bere una tisana per leggere due capitoli di libri che ci stanno piacendo se questo non vuol dire dimenticare tutto quello che c'è intorno a noi vuol dire trovare un ancora di salvezza per cercare così di riuscire ad andare avanti nella maniera più positiva possibile io sono una persona ottimista di natura ma essere ottimisti in questo periodo è veramente un po' dura bene vi ringrazio tutti se siete arrivati fino a qui vi auguro un sereno weekend e ci vediamo la prossima settimana con la terza parte che vi avevo promesso dei prodotti che aggiungo alla mia skin care routine quotidiana vi abbraccio e mi mando un bacione e vi auguro una buona giornata ciao a tutti e grazie ancora per essere stati con me ciao